È stato pubblicato il bando per i finanziamenti per i progetti per la vita indipendente. Sul sito internet del Comune dell'Aquila c'è l'avviso volto all'acquisizione di progetti individuali per la vita indipendente. A comunicarlo è stato l'assessore alle politiche sociali Francesco Bignotti, che ha precisato che i destinatari dell'iniziativa sono le persone affette da disabilità grave e certificata. L'iniziativa segue una recente comunicazione con la quale, ha detto Bignotti, la Regione ha formulato alcune precisazioni anche con riguardo ai requisiti dei richiedenti e alla documentazione da allegare alle domande. Si tratta di un'occasione importante grazie alla quale i beneficiari del progetto hanno l'opportunità di personalizzare gli interventi di integrazione sociale tramite la permanenza nel proprio ambiente di vita, in modo da incidere direttamente sul quotidiano. La legge regionale è molto importante, anche se purtroppo attualmente sono stati ridotti i finanziamenti da parte dell'ente, ha detto Bignotti. I progetti possono essere presentati dai cittadini residenti nel Comune dell'Aquila, di età compresa tra 18 e 67 anni, depositandoli presso gli uffici del settore politica e per il benessere della persona in via Aldomoro, entro e non oltre il 31 gennaio del 2019. I requisiti per poter accedere al fondo previsto e assegnato al Comune dell'Aquila riguardano la disabilità grave e certificata, l'invalidità al 100% con indenità di accompagnamento e le persone con reddito ESEE non superiore a 20.000 euro.